Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. L'incresciosa vicenda, ingiustamente patita nei giorni scorsi dalla professoressa Paola Senesi, preside del prestigioso liceo classico Giulio Cesare di Roma, ha avuto almeno un merito, quello di chiarire le posizioni e dimostrare in modo paradigmatico quanto ideologico e strumentale fosse e sia ancora l'attacco sferrato contro di lei. Partiamo dai fatti. Alla vigilia della settimana dello studente, svoltasi dal 9 al 12 febbraio scorsi, i rappresentanti dell'illista hanno presentato alla dirigenza scolastica di Giulio Cesare le proprie proposte in vista dell'evento. Tra queste, in prima stesura, figuravano anche due idee del collettivo Zero Alibi, ovviamente di sinistra, una lezione informativa con una ginecologa specializzata nell'interruzione di gravidanza e nella lotta contro l'obiezione di coscienza, quindi non certo super partes, come ha svelato la giornalista Costanza Miriano sul suo blog, e l'altra su che cos'ha l'identità di genere, corso di educazione sessuale con uno psichiatra specializzato. Su entrambe la preside ha chiesto un ripensamento, nel primo caso in quanto un tema complesso come quello dell'aborto non poteva essere ridotto a mera tecnica sociosanitaria, implicando una multidisciplinarietà di aspetti, a partire da quello bioetico, non previsti dall'iniziativa. Nel secondo caso, in quanto la nota del MIUR numero 1972, del 15 settembre 2015, ribadisce a chiare lettere come tra i diritti e i doveri e le conoscenze da trasmettere non rientrino in nessun modo né ideologie gender né l'insegnamento di pratiche stranee al mondo educativo, dovendosi prevedere, in base all'articolo 30 della Costituzione italiana, alle linee guida del MIUR in ordine all'articolo 1,16 della legge 107, nonché alla circolare ministeriale 19534-18, che tutte le attività non rientranti nel curriculum obbligatorio debbano avere il consenso dei genitori prima di essere varate. Nella versione finale, il programma elaborato dagli studenti e approvato dal collegio docenti non prevedeva più i due incontri della discordia. Pareva che tutto fosse a posto, che le valutazioni della preside fossero state condivise dai rappresentanti degli studenti, non essendo state riportate, neppure nella bozza finale, specifiche obiezioni in merito, come è precisato, dalla stessa dirigenza scolastica in un proprio comunicato. Invece no, qualcuno, nell'ombra, dietro le quinte, stava già tramando, preferendo il confronto schietto, l'attacco a sorpresa e vile alle spalle. E qui iniziano le evidenze. A partire dall'orchestrazione di una protesta ad orologeria, smaccatamente ideologica e strumentale, protesta che infischiandosene di temi alti, quali educazione, formazione, didattica, mondo giovanile, si è rivelata, come è riportato dal quotidiano avvenire, un fronte aggressivo che imbraccia slogan e pregiudizi per muovere l'assalto di chi non si riconosca nell'applicazione di una libertà ritenuta insindacabile. Ed è questa una convinzione degli stessi studenti, come hanno evidenziato quelli aderenti alla lista factotum, che hanno espresso pubblicamente il proprio sdegno in merito alle strumentalizzazioni politiche e giornalistiche. L'unica conseguenza di questo ridicolo teatrino, hanno scritto, è stata quella di mettere in cattiva luce il buon nome del Giulio Cesare, distorcendo la realtà dei fatti, perfini ben lontani dal bene degli studenti. Ci auguriamo che certa gente smetta di usare gli studenti come pedine nei propri giochi di potere. Più chiaro di così. Altra evidenza il ruolo giocato da certa stampa, cui subito i ragazzi del collettivo si sono rivolti, contando su di un'azione di sponda. Nello specifico, il quotidiano Repubblica ha strumentalmente trasformato l'invitro alla presida un ripensamento in una censura, il che non è vero, pur assicurando il titolo non ha defetto. Le modifiche apportate al programma iniziale non sono certo frutto di un atteggiamento censorio, ma dell'esercizio la funzione di indirizzo e valutazione delle proposte dagli studenti sul piano formativo, ha specificato la preside Paola Senesi in un proprio comunicato, in cui, precisa come le iniziative dei ragazzi debbano inserirsi in un contesto coerente con i programmi scolastici e dunque in accordo anche con le famiglie, il cui ruolo educativo è richiamato nel patto di corresponsabilità sottoscritto ogni anno. Terza evidenza, il ruolo è giocato da chi tra i docenti del Giulio Cesare gioca alla guerriglia e lancia il sasso nascondendo la mano con una lettera non firmata, pervenuta sempre nella redazione di Repubblica a nome di 40 insegnanti dell'istituto non si sa però chi, che avrebbero preso le distanze dalla preside accusandola anzi di aver esautorato il collegio docenti vietando quei due incontri. Niente di più falso, come spiegato in una propria nota da Alberto Gambino, giurista e presidente dell'associazione Scienze Vita, e Alessandro Benedetti, presidente del Comitato Civico per Roma. Non appartiene al corbo docente il potere di decidere a colpi di maggioranza temi che proprio per la loro sensibilità riguardano le famiglie, finendosi altrimenti per sindacalizzare in modo ideologico le decisioni sulla formazione dei figli con l'estromissione dei principali protagonisti di tale proposta educativa che per dettato costituzionale sono innanzitutto le famiglie e i genitori. Ma a sbugiardare ulteriormente quella lettera non firmata ha provveduto niente meno che il collegio docenti tenutisi lo scorso 17 febbraio, collegio che ha votato a larghissima maggioranza la versione dei fatti fornita dalla preside, dove sono spariti dunque quei 40-600 insegnanti contestatari ammesso che siano mai esistiti. Quarta evidenza, i faccinnorosi infiltratisi nella scuola per battaglie ad esse estranee, come avevano già dimostrato nei giorni scorsi le occupazioni compiute a Roma da striminzite minoranze presso il liceo Socrate alla Grabatella, con tanto di condanna forte e unanime da parte del dirigente scolastico, del corpo docente e del personale ATA, e presso il liceo Kant in zona Torpignattara. Ma in questa categoria rientra una pieno titolo anche le prese di posizione del sedicente collettivo transfeminista non una di meno, sigla che rispunta sempre dall'ublio in occasioni come queste. Quinta evidenza, chi mesta nel torbido con provocazioni gratuite, come ha dimostrato il camion vela col manifesto firmato UAR, Unione Atei Agnostici Razionalisti, pensato per promuovere l'aborto farmacologico presentato come una conquista da difendere, tacendone però i rischi per la salute. Secondo il New England Journal of Medicine, il tasso di mortalità dovuto all'aborto chimico sarebbe dieci volte superiore a quello chirurgico. Ebbene, tale camion è stato piazzato proprio davanti all'iceo classico Giulio Cesare di Roma nei giorni della bufera. Un gesto si avvetto solo a gettare benzina sul fuoco. In questo caso nessun sindaco ha firmato un'ordinanza immediatamente esecutiva per togliere dalla vista il cartellone come è capitato invece solo pochi mesi fa ad alcuni manifesti pro-life. Come al solito due pesi e due misure chissà perché sempre a favore di una sola parte. Veda a dire che in tutta questa faccenda ha preso comunque forma e consistenza anche il fronte della solidarietà. Innanzitutto tradottosi nelle lettere inviate da molti genitori alla preside ringraziandola di cuore. Sul versante istituzionale certo aveva una nota stonata ma una sola vale a dire l'interpellanza parlamentare presentata dall'onorevole Nicola Frattoianni. Chi è? È il segretario nazionale di sinistra italiana partito che alle ultime europee ha raccolto nulla più dell'1,7% dei voti. Dichiaratamente pro-eutanasia pro-LGBT pro-legalizzazione della cannabis e pro-Iussoli. Ha chiesto spuderatamente di censurare la condotta della preside del Giulio Cesare ma a fronte di questo caso isolato non sono mancate le reazioni opposte anche nel mondo della politica. La senatrice Isabella Rauti di Fratelli d'Italia ha condannato gli attacchi hater lanciati contro la dirigente scolastica sui social. Il senatore Maurizio Gaspardi ed Enrico Aime di Forza Italia hanno chiesto chiarezza con un'interrogazione al ministro dell'istruzione. Simone Pillon capogruppo della Lega in Commissione Giustizia con un'altra interrogazione parlamentare ha chiesto quali misure il ministro intende assumere per garantire ai dirigenti scolastici di svolgere il proprio dovere nell'osservanza delle leggi. Anche il senatore Lucio Malan vice capogruppo vicario di Forza Italia e Paola Binetti dell'Udc si sono riservati eventuali indagini rispettive parlamentari a tutela della preside. Piena e totale solidarietà anche dall'onorevole Paola Frassinetti vicepresidente della Commissione Cultura della Camera e dall'onorevole Carmela Ella Buccalo entrambe di Fratelli d'Italia. Insomma i mestatori d'odio questa volta hanno fatto una pessima figura ma va dato atto alla preside Paola Senesi di una fermezza coraggiosa di un'attenta applicazione delle leggi vigenti e di una pazienza davvero invincibile. Grazie a tutti. Grazie a tutti.